Buongiorno e benvenuti alle nostre breaking news, viaggiava a bordo della sua auto portando con sé 10 grammi di hashish e un bilancino di precisione, è stato fermato dagli agenti della squadra mobile per un normale controllo, è un 22enne a retino CL le sue iniziali, la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola a brasa e 9 proiettili, il ragazzo aveva piccoli precedenti di pulizia e è stato quindi arrestato per detenzione di arma clandestina, questo come detto è accaduto ad Arezzo. Il punto sulla situazione dei contagi, 116 nuovi casi di covid in provincia a fronte di 817 tamponi, 20 i malati ricoverati al San Donato, 110 i guariti, il virus si riscontra in 22 comuni del territorio con numeri che arrivano al massimo a 20 casi per il capoluogo. Lo sport, l'Arezzo oggi è in campo nel turno infrasettimanale del campionato di serie D a Piancastagnaio, gioca contro la Pianese, ancora qualche defezione per Mariotti costretto a rinunciare a qualche titolare, ma il tecnico è ugualmente fiducioso che nonostante il valore dell'avversario, l'Arezzo possa fare una bella partita. Queste erano le nostre breaking news. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.